dai si che mo' si fa eh secondo me qualcuno deve mettersi di lì però eh perché quello se va su va giù di là ve lo dico subito una salita una salita va beh adesso adesso vediamo mettiti di là va si ho capito mettiti là che arriva no là in alto non metterti lì perché ti cade adosso meglio uno che due eh ma c'ho contro sole dopo vengono scure devi puntare il birillo se sei troppo di qua rischi di prendere questo qua se arrivi lì chiudi ascoltami qua esatto perché lui lo tira tanto di là invece di buttarla qua deve toccare appena appena qua mi ha preso la sprovvista e l'han provato col con Maurizio questo qua Maurizio il chicco mi hai fregato perché non me l'aspettavo puoi provare tu vieni su di lì e poi fai il diritto fai il sasso no sei impazzito no è già questo è abbastanza no perché se la fosse più dritto allora lo fai è che io la perdo velocità e qua dopo non ho qua devi aprire qui dopo non ho più la velocità per farlo qua ti ammazza se vieni su piano cosa devi fare a bere a bere tutti a bere tutti a bere no tu devi fare l'ultima quella che ce l'ha l'ultima prima di arrivare a bere